Il Ministro per l'Università e la Ricerca, Anna Maria Bernini, incittà per una visita a pediatria. La buona notizia è il ritorno della scuola di pediatria nel capoluogo, la scuola di specializzazione per nove borse, come percorso post laurea dell'Università. Questo grazie all'interessamento del Ministero, che ha sopperito ad un bisogno. È una buona notizia perché si intercetta un bisogno. Credo che sia stato un atto doveroso. Quando nel 2017 si è spenta la specializzazione in pediatria, si è aperta una voragine, una voragine di mancanza di diritto all'assistenza e alla salute per i bambini, perché i pediatri sia ospedalieri sia di libera scelta non sono sufficienti. E soprattutto ora, parliamo in positivo, si è data la possibilità di creare non solamente una scuola di specialità, con, tra l'altro, nuove borse di specializzazione ed è importante che siano nuove perché da qui dovrebbe partire un hub di collegamento non solo per l'Abruzzo ma anche per il Lazio, perché io credo che Abruzzo e Lazio debbano essere sempre strettamente interconnessi. Quindi anche per la questione pediatrica e anche per le specializzazioni in pediatria creeremo un hub con diversi reparti in Abruzzo e anche in Lazio. Per quel che riguarda le elezioni regionali, Forza Italia è un punto di riferimento della coalizione importante, così il Ministro. Crediamo che tante cose siano state fatte, crediamo molto nel lavoro di squadra. Io sono molto grata ai miei colleghi e a tutti, diciamo, non solo i militanti, i candidati, ma a tutte le persone che hanno dato fiducia a Forza Italia e al centro-destra, perché noi ci crediamo moltissimo. Crediamo in questo territorio, crediamo per quanto mi riguarda nelle sue potenzialità tecnologiche, innovative e di ricerca. Io sono passata sotto il laboratorio del Gran Sasso, ma non solo quello. Industria farmaceutica, automotive, piano nazionale di ripresa e resilienza che si sta, giustamente, sta irrorando questo territorio, si sta ribaltando su questo territorio, sulle università e sugli enti di ricerca. Tutto questo noi lo conosciamo, lo sappiamo fare, abbiamo dimostrato in questi anni di saperlo fare e vogliamo continuare a farlo sempre meglio, perché ora i fondi ci sono, sono tanti, vanno solo ben spese. L'unico rischio in questo momento non è di non avere fondi, ma di non spenderli bene.